Ascoltami bene, ti dico quale sarà il tuo futuro. Tu crescerai, diventerai grande e sarai una ragazza forte e molto intelligente. Andrei a scuola, incontrerai un bel ragazzo, avrai dei figli meravigliosi, creerai delle cose bellissime e questa è la vita che ti aspetta. Non pensare mai che il mondo ti debba qualcosa, perché non è così. No, 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 no. A proposito, mi chiamo Joy.